Direi che è partito non bene ma benissimo col botto, è chiaro che adesso la strada è lunga soprattutto per andare in Serie A poi in seguito chiaramente bisogna sempre imparare nella vita e quindi per lui è importante sempre aggiornarsi, studiare e migliorare. Qualche pronostico per le prossime partite? I pronostici negli spareggi, nei play-off spuggono a un'osservazione attenta, è chiaro che ci vuole un pizzico di fortuna negli episodi fare le cose per bene chiaramente però dopo chiaramente ti deve aiutare un po' la fortuna. Il suo orgoglio da padre nell'aver visto questo cambio di rotta del Pescara con il cambio a punto panchina? È importante, è chiaro che siamo orgogliosi perché è chiaro che nella nostra famiglia non c'è soltanto il padre ma c'è anche la madre soprattutto e quindi siamo tutti felici compreso anche il fratello che chiaramente segue i destini del fratello e quindi siamo contenti e ansiosi, un po' preoccupati perché io pensavo che con la vecchiaia avessi smesso soprattutto mia moglie di soffrire davanti alla televisione perché ho pure sul campo da parecchio che soffre e invece ci tocca ancora soffrire.